Consigliere Bonazza, la notizia ufficiale è che voi state occupando l'ex scuola professionale San Josef di Aslago. Ci siamo un gruppo di militanti di Casa Pando d'Italia che sta occupando questa ex scuola in stato d'abbandono da oltre dieci anni che fino a questa mattina era occupata abusivamente da cittadini extracomunitari. Vare aree di questa scuola e di questa struttura hanno preso fuoco negli anni proprio per queste occupazioni abusive. La situazione di estremo degrado, come potete vedere qua vicino ci sono due campetti da calcio e moltissime case condomini e case popolari e quello che chiedono le ragazze è praticamente di riqualificare la struttura. Se non ci pensano le istituzioni ci penserà a questo punto Casa Pound con i residenti del quartiere. Allo stato attuale gli occupanti possono sicuramente rischiare una denuncia o sicuramente rischiano molto di più i cittadini del quartiere e i figli dei cittadini del quartiere che lasciano i bambini giocare in questa zona. Come avete visto anche voi ogni accesso, ogni punto difensivo di questo immobile è comunque un accesso libero per quelli che possono essere bambini.